Accattatevi i parrucchi en Maradona! Come sta? Sembrate argentina! E vive morta! Accattatevi i parrucchi en Maradona! E porfa! Stiamo cercando tutta questa meraviglia che i napoletani hanno per Maradona quindi questo è qualcosa di più tipico che potete vedere a Napoli se qualcun giorno avete la possibilità di visitarla La fiebre di Maradona La fiebre di Maradona La fiebre di Maradona La fiebre di Maradona è uno dei 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 più particolari di Napoli In il centro storico della città a pocchi passi del Duomo dove sono conservati gli resti dei 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 più importanti di Napoli San Gennaro Abbiamo anche trovato questo bar dove conservano il migliore di Diego Armando Maradona La fiebre di Maradona Arriba, amore Anche Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a Maradona. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.